La marcia dei trattori non si arresta neanche in Sicilia. Oltre 200 mezzi, provenienti da diverse province, dopo aver fatto tappa a Marsala, Petrosino e Castelvetrano nei giorni scorsi, hanno raggiunto questa mattina Alcamo per ribadire ancora una volta il no alle politiche europee. Gli agricoltori, in attesa di risposte concrete da parte della regione e del governo nazionale, continueranno le loro proteste. Sono venuto a trovare i miei colleghi agricoltori e io una cosa che ci tengo a dire è quella che i veri agricoltori siamo questi, noi siamo quelli che non siamo scesi a finti patti governativi, noi non ci stiamo solamente con la riduzione IRPF, noi ancora tutt'oggi protestiamo, siamo la vera forza e siamo i veri agricoltori. Non scendiamo a patti col governo se non ci danno ciò che ci spetta. Noi non vogliamo sussidi, noi vogliamo vendere il nostro prodotto dignitosamente, non stiamo chiedendo chissà che. Sono anni che gli agricoltori fanno i conti con crisi dei prezzi, aumento dei costi di produzione, cambiamenti climatici, strapotere della grande distribuzione e pratiche sleali. In questo contesto il venir meno di alcuni sussidi o anche l'obbligo di tenere i terreni a riposo ha fatto esplodere la rabbia. Bisogna stare attenti a quello che si compra, bisogna avere 5-10 minuti in più quando si va al supermercato per guardare le etichette, per vedere che nel grano non ci sia scritto che il grano arriva da paesi non Unione Europea, perché quando c'è scritto non Unione Europea vuol dire qualsiasi paese del mondo e soprattutto il Canada, dove mettono veleno e dove noi ci dobbiamo mangiare veleno quando abbiamo la Sicilia che era ed è il granaio d'Italia se non d'Europa. Grazie